Molti spunti, quindi poi anche per aprire poi la discussione successiva magari proverò un po' a discutere e anche problematizzare alcuni dei termini che sono dei concetti che sono uscite dagli interventi a partire anche da quella che poi è un'esperienza, una pratica dentro alcune politiche dentro cui siamo immersi ed è un noi in parte si riferirà in modo soggettivo all'esperienza che stiamo vivendo dentro il Teatro Valle ma anche un noi più espanso invece rispetto a una rete anche piuttosto fluida di esperienze soggetti che negli ultimi due tre anni appunto che hanno anche dei luoghi fisici il Valle, Macao, il Sale, l'asilo un po' disseminati in Italia ma hanno anche invece delle configurazioni non territoriali, non spazializzate, più fluide invece legate a forme di autoorganizzazione dentro il lavoro culturale. Parto dalla categoria di pubblico ovviamente estremamente problematica, ovviamente lavorando politicamente all'interno di queste categorie quello che ci troviamo poi a affrontare è una materia molto più spuria in cui se per esercizio di analisi o per meglio comprendere e produrre intelligenza anche analiticamente frazioniamo dei concetti, poi invece nel fare politico questo è molto più fluido, più spurio per cui il momento dell'affermazione piuttosto che il momento della negazione spesso ce le viviamo come compresenti o i processi di soggettivazione sono invece estremamente complessi e difficilmente anche riducibili. Partire da questa, come stavamo problematizzando la categoria di pubblico, il primo elemento che mi viene da dire è che il lavoro da fare all'interno di questa categoria è di togliere tutto ciò che di universale produce questo concetto, cioè ci rapportiamo al concetto di pubblico con un atteggiamento critico verso tutta un linguaggio degli universali, allora all'interno e però poi con questo termine noi abbiamo un elemento di confronto molto forte spesso perché le nostre attività sono anche attività di creazione di pubblico, perché concerti, musica, teatro, performance, cinema, quindi invece convochiamo dei pubblici, ci relazioniamo a dei pubblici. Allora quali sono i dispositivi che ci permettono invece di rendere striato, di dare consistenza, di de-universalizzare questo concetto di pubblico, cioè come far emergere all'interno di questo indifferenziato che dà una restituzione quasi di un corpo sociale indistinto invece delle linee di posizionamento e anche quindi di possibile soggettivazione attraverso appunto la linea della classe, della razza, del genere all'interno di questo indifferenziato. Ecco, questo sicuramente è una domanda che noi ci dobbiamo porre relazionandoci, quindi con quali dispositivi, quali pratiche riescono a striare, a far emergere, a dare consistenza fisica, corporea e dunque una ipotesi di soggettivazione. Noi su questo ci lavoriamo ovviamente con strumenti diversi, uno di questi che utilizziamo è provare a rendere visibile, a far emergere quali sono le forme di cittadinanze che si, intendendo cittadinanza non come status ma come processo conflittuale, come conquista, come emersione, dentro questo indistinto. In una città ad esempio come Roma, questo può essere molto forte, anche ad esempio il Teatro Valle è un luogo, per chi c'è stato, è un teatro al centro della città a 20 metri dal Senato, quindi in un spazio cittadino che ha dei flussi di attraversamento o legati ai palazzi del potere o a quelli invece del turismo e quindi grossi pezzi di città di cittadinanza neanche accedono a quello che è il centro storico e a questo luogo che era un luogo anche di elite. Quindi anche come intercettare, come comunità, come riformulare questo indistinto del pubblico in termini di accesso e di forme di cittadinanza, prendendo cittadinanza come sopra, questa è una modalità su cui stiamo lavorando. Altra tematica, dentro invece una pratica più artistica legata ai linguaggi del contemporaneo, allora come invece affrontare un problema che in Italia è molto forte, cioè quella invece della ricreazione di pubblici specializzati o di vere e proprie elite culturali e quindi la questione che certi tipi di produzione linguistica, produzione culturale, produzione artistica sono specializzati e quindi sono delle forme di vere e proprie di esclusione. linguistica, ecco questo è un tema che noi ci dobbiamo porre, perché altrimenti riproduciamo una separazione, invece, lo siamo ripetuti più volte, nel momento in cui in questo paese certo tipo di linguaggi è accessibile solo o percepito come campo di elite e quindi legato a tematiche legate all'estetica o alla poetica o invece nel versante del lavoro al privilegio. Ecco, allora come interrompere questa costruzione e invece, ecco, questo in termini di accesso e di inclusione è anche un altro elemento. Una delle strategie che abbiamo utilizzato, ad esempio per un termine, per certi versi, simile perché è molto problematico, che però noi nel lavoro politico abbiamo utilizzato, cioè quello di cultura. Fin dall'inizio, noi prima ancora, ad esempio al Valle, prima di occupare, in un momento in cui si discuteva in Italia e si lottava intorno, c'erano delle lotte attive nel campo, diciamo, dell'università, però poi per estensione anche alla cultura, noi abbiamo accettato questo termine problematico, provando però a lavorarlo dall'interno, quindi a produrre un discorso che facesse sì che la cultura togliere, diciamo, tutto ciò che invece è passato molto in questi anni, cioè della cultura come un campo neutro, quindi invece della cultura, per quanto termine problematico, non stiamo a dircelo qua, però invece come anche luogo di posizionamento, come spazio di creazione di pensiero critico, queste sono state strategie che però ci hanno permesso anche di parlare a molti. Altro elemento, per dare una restituzione anche della dimensione biopolitica, della cultura, dell'immateriale, far passare che non sia un campo esclusivamente professionalizzato, quindi la cultura non è solo per addetti ai lavori, non è solo per i professionisti della cultura, ma siamo tutti produttori di cultura. Allora, questo tipo di discorso e di pratiche è qualcosa che ci ha permesso di lavorare dentro queste, rendere problematici e provare a muovere in senso critico alcune di queste configurazioni che stavamo affrontando. Un altro, invece, secondo punto, la soggettività, le soggettività, i processi di soggettivazione. Anche rispetto alla questione del lavoro, non lavoro, su cui credo che condividiamo, possiamo anche dare per acquisito, condividiamo un orizzonte teorico costruito intorno alla critica del lavoro e quindi invece a un'idea di liberazione, di autodeterminazione legata al non lavoro. Però anche lì, invece, nel lavoro, nella pratica politica, invece è stato necessario quasi compiere una sorta di strategia più complessa, nel senso che noi, ad esempio, come primo atto quasi di soggettivazione è stato quello di, invece, dentro il campo dell'arte, e dentro il campo della cultura, definirci come lavoratrici e lavoratori, anche lì provando poi a posizionare, quindi intermittenti, precari, autonomi. Però perché? Primo perché, qualcosa che, lo racconto in altri termini, ma in qualche modo è una traduzione di quello che ci diceva Andrea, per una commistione fortissima tra diversi campi, che sono quelli del lavoro, quelli dell'attività, quelli dell'ozio, della produzione, della riproduzione. E ci troviamo, però, in un contesto in cui i soggetti sono completamente frammentati. Il livello di consapevolezza, anche di autoorganizzazione, è estremamente difficile. E quindi, invece, in questo campo qua, il tentativo di aggregare, autoorganizzarsi come soggetti, ha richiesto e richiede un passaggio, invece, proprio lavoratrice, lavorato proprio per identificare quella parte della nostra vita, delle nostre passioni, che invece è soggetta a sfruttamento, in modo molto definito, anche se non, lo sappiamo, nelle misure tradizionali dell'orario, della quantificazione. E poi, altro elemento, anche generazionale. Noi veniamo da un lungo periodo in cui le retoriche dominanti, che sono diventate egemoniche, e che si sono però fortemente interiorizzate, sono state retoriche legate, invece, alla disoccupazione. Cioè, si è costruita la percezione che ci mancasse il lavoro, no? Mentre, come dice, è come se adesso servisse un passaggio, no? Non è il lavoro che ci manca, è il reddito quello che ci manca. Sono le risorse, gli strumenti di autodeterminazione. Allora, in questo campo di frammentazione dei soggetti, invece, avendo ben chiaro di non riprodurre, invece, un discorso di tipo lavorista, però è stato importante anche nominare, invece, proprio l'aspetto legato alla precarietà, allo sfruttamento, che è legato eminentemente al lavoro, provando anche a riconnotare, invece, in termini positivi di autodeterminazione, invece, il termine, ad esempio, di intermittenza, laddove noi proviamo a investire, a risignificare, invece, nell'orizzonte di un reddito incondizionato, però, l'elemento di continua confluenza, commistione, coabitazione tra i tempi di lavoro e i tempi di non lavoro, anche in termini, però, di autodeterminazione, di autonomia nel campo, se ci rapportiamo a soggetti che operano nel campo culturale, artistico, immateriale, la possibilità di scegliere, di essere autonomi rispetto a quali lavori accettare, e non accettare il ricatto, cioè, questa tematica è sentita e può essere una chiave di accesso per poi, invece, far passare un discorso legato al reddito incondizionato in questi contesti, così come il tentativo è stato quello di produrre delle forme di auto-organizzazione legate alla cultura e all'immateriale, fuori e in modo molto radicalmente critico da ogni retorica corporativa, che è ovviamente il rischio, però, anche togliere tutto quello che di privilegio è legato a quest'ambito. Quindi, sono state anche pratiche di narrazione, di pratiche linguistiche, di racconto, quindi raccontarci come precari tra i precari, percepirci come, appunto, espropriati, ma anche come questa figura, no, in questo, per come si è ridefinito il lavoro contemporaneo, quindi in questa dimensione biopolitica, ormai conclamata, anche se, ovviamente, risituiamo tutto in occidente, però nel territorio in cui ci muoviamo noi, sicuramente questo ormai non è più una minoranza, è una gran parte della popolazione, che, quindi, la figura del lavoratore dello spettacolo, se, proprio in particolare, se anni fa era una figura di eccezione, alcuni elementi del lavoro immateriale, in particolare del lavoro creativo, del lavoro artistico, sono diventati, nel senso poi più deteriore, elementi, invece, diffusi, soprattutto precarietà, precariato, però è stato importante anche per, come dire, poter, come facciamo, riemergere anche le condizioni materiali, legati, invece, al lavoro immateriale, al lavoro artistico, eccetera, quindi, queste strategie differenti, così come un altro elemento, invece, positivo, un accento sulla creazione, quindi, anche giocata in chiave retorica, di opposizione, invece, ai linguaggi della produttività, laddove, invece, la creazione restituisce un elemento di liberazione, di attività, legato anche, appunto, all'espressione. Un'ultimissima cosa, questo, quello che stavamo dicendo, appunto, invece, legato a, l'area più concettuale, al paradigma del comune, anche lì, come quello che ci stiamo, che stiamo praticando, nelle politiche che stiamo provando a sviluppare, che ci stiamo vivendo, e, quindi, quali dispositivi di resistenza, rispetto all'oggi. Anche lì, per noi, è abbastanza inestricabile, quindi, è difficile separare, diciamo, le diverse articolazioni legate all'area semantica del comune, quindi, i commons, i beni comuni, quindi, anche una dimensione spaziale, una dimensione concreta, materiale, il commoning, allora, laddove è il comune, come, invece, la categoria più ampia, laddove tutta una pratica, una politica dei beni comuni ci ha consentito, ci ha dato uno strumento molto forte per generalizzare alcune lotte, e, quindi, creare anche alleanze con altri soggetti, creare soggettività non soltanto territoriali, non riprodurre soltanto specificità e parzialità, ma provare, invece, a costruire delle forme di alleanza, anche tra sociali, in qualche modo, e, così come ci ha permesso di portare avanti su un terreno ampio o un discorso di critica alla proprietà, che, in un momento in cui l'attacco neoliberista è fortissimo e, anche solo porre la questione, provando a creare consenso, è un elemento politico molto forte, e ci ha permesso di parlare, di praticare nella prospettiva di nuove istituzionalità, quindi di un agire politico che, però, cerca di istituirsi, di istituire spazi, luoghi, discorsi, ma anche forme di riappropriazione e di redistribuzione, laddove, d'altra parte, il commoning lo traduciamo anche in pratiche di autogoverno e di cooperazione, ed è un punto su cui noi, in questo momento, stiamo provando a interrogarci, ma anche a sperimentare, ad esempio, è un passaggio, dopo i primi periodi di lote, parlo per il valle, adesso, ad esempio, c'è un'attenzione molto forte a cercare di capire quali dispositivi, quali modelli di creazione di economie, ridistribuzione di economie, non riproducendo, come dire, il modello orario o il modello di remunerazione, quindi provando a creare delle vere e proprie pratiche di sottrazione dalla crisi, di creazione di economie, luoghi dove, come dire, liberare il lavoro, autogestirlo, autogovernarlo. Ecco, questi sono, diciamo, un po' il punto in cui siamo, e anche, come dire, provando a, ecco sapendo, anche ascoltandomi, però appunto con questa sensazione che poi, lavorandoci, questi termini diventano veramente più spuri, ma nel senso più bello del termine, laddove la teoria non è un cristallo lontano, ma, come sempre, sono strumenti che poi mettiamo all'uso. Grazie.